Ciao e benvenuto di nuovo su MacRari, sono Aristide Lappa. Nel video precedente abbiamo costruito questo dashboard e abbiamo visto che per creare un nuovo paziente si clicca su questo pulsante, viene predisposto il formato per la creazione di un nuovo record. Se l'abbiamo fatto per errore, abbiamo comunque generato un record e dobbiamo andare qui a cancellare. Per evitare questo all'utente, in questa lezione creiamo uno script che farà quell'operazione in modo automatico. Andiamo in script, area di lavoro script, creiamo un nuovo script col nome script cancellare record vuoto, invio. L'istruzione per il nostro script sarà un if condizionale dove andremo a testare, selezioniamo due campi, se quei campi sono vuoti riteniamo che il record è vuoto e lo andiamo a cancellare. Inserisco if, tabulazione, andiamo nella funzione, clicco, in corrispondenza di specifica calcolo. Inseriamo, qui dobbiamo scegliere pazienti, perché dobbiamo inserire un nuovo record paziente e dobbiamo dire se il campo cognome è vuoto, uguale a vuoto, virgolette. Due condizioni, visto che andiamo anche a testare in corrispondenza dell'assenza di valori in cognome, anche in nome, dobbiamo utilizzare un operatore and che sarebbe e. Clicco and e nome uguale vuoto. Faccio un po' di spazi per rendere la formula molto più visibile e leggibile. L'if andrà a vedere se contemporaneamente il campo cognome e il campo nome sono vuoti, non contengono valori. Se è vero, andrà a eliminare, elimina il record richiesta. Questo è tutto quello che serve per il nostro script, puoi aggiungere commenti se vuoi. Salviamo, comando S, qui chiudo. La seconda cosa che dobbiamo fare è di andare nel formato file, gestisci, formati. Andiamo in corrispondenza di visite pazienti, dettaglio visite pazienti. Doppio clic, andiamo in script rig e qui diciamo che se su uscita, questo è l'evento che deve generare l'esecuzione dello script che abbiamo appena creato, devi eseguire script cancella record vuoto. Ok. Ok. E qui chiudo. Se ora andiamo in nuovo paziente e cerchiamo di navigare al di fuori di questo formato, ci viene richiesto di eliminare il record. Facciamo elimina. Se non vogliamo neanche far vedere all'utente quel messaggio, andiamo di nuovo in script, area di lavoro script, in corrispondenza della finestra di dialogo che viene generato da elimina il record richiesta, andiamo qui e clicchiamo per disattivare. Ora è disattivato, comando S per salvare, chiudo l'area di lavoro script, nuovo record, se prova a navigare fuori da questo formato, non viene più detto niente e se andiamo in lista pazienti non troviamo nessun nuovo record. Comodo vero? Grazie per l'attenzione e a presto.